cari amici buongiorno bentornati sul mio canale e ogni tanto io me ne esco con questi piccoli video girate a casa inframmezzati da qualche video di pesca andando a pescare tra virgolette vecchi filmati filmati nuovi idee qualche cosa insomma per rendere questo canale un pochino più vario ha una partecipazione un numero di iscritti che reputo sufficiente certamente non aggiungiamo i picchi dei nuovi youtuber che magari di pesca non sanno assolutamente un tuber però però fanno dei numeri che sono veramente impressionanti non è il mio caso ma me non interessa io ho avuto già una sovraesposizione mediatica in questi ultimi 30 anni forse esagerata decisamente esagerata detto questo 11 13 febbraio european outdoor show è una manifestazione del dedicata alla pesca che si tiene nel sistema feristico di verona leo s 2023 vede la partecipazione di diverse aziende quindi ampi spazi espositivi a fianco padiglione di fianco ci sarà la caccia i nostri amici della caccia in una kermesse che come sempre interessante che sicuramente vedrà la partecipazione di tanti di noi io sarò presente chi vorrà incontrarmi parlare ne avrò grande piacere lo potrà fare chiedendo di me o trovando il mio nello stentrabucco lmf oppure in quello raptor oppure nella vasca dei lanci della pesca a mosca ci sono tanti argomenti di cui trattare perché sta arrivando il momento della pesca sta per aprirsi la pesca la trota sto vedendo inviti per andare in bellissimi posti in zone in aree meritorie nell'oeos parleremo sicuramente dell'apertura di una tratto di una riserva no kill la riserva medicea in quelle di toscana sopra viareggio per intendersi che probabilmente la riserva di pesca più antica d'italia se non addirittura d'europa ma ne parleremo in quell'occasione sono molto interessante ci saranno delle storie e degli aneddoti interessanti e molto piacevoli da ricordare parleremo anche della situazione drammatica in cui versa la pesca sportiva italiana perché si va bene l'agonismo si va bene vinciamo un sacco di medaglia va bene abbiamo un sacco di campioni perfetto tutto quanto sapete la mia posizione nei confronti dell'agonismo qual è ma è altrettanto vero che soffriamo di una carenza di immagine mostruosa e sono questi ultimi cinque anni io ho sperato ci fosse salto di qualità salto di qualità che era potenziale perché quando si parlava di covide erano tutti quanti lì ad ascoltare i ruscelli e i matteoli che raccontavano le possibilità che c'era della pesca accreditandosi probabilmente di un merito che forse hanno avuto ma è finita lì perché poi altro a poco c'è stato non abbiamo ottenuto nulla da un punto di vista della pesca di porti nulla contro il bracconaggio nulla contro le reti sotto costa nuto nulla contro le reti di circuizione abbiamo avuto un ulteriore ristringimento delle possibilità di andare a pescare sulle spiagge in estate per cui gli amanti della pesca della spiaggia si vedono preclusa questa possibilità insomma tutta una serie di limitazioni che rendono molto difficile l'essere appassionati e continuare ad essere appassionati di pesca in una situazione di mercato particolarmente dura perché economicamente la situazione è difficile quindi c'è stato una serie di piccoli fallimenti o grandi fallimenti e ci sono si può fare eccezione di 22 episodi che in qualche modo mi vedono anche a me partecipe e ovvero il prolungamento della verità del libretto delle catture quella porcheria cartacea che viene data dalla regione lazio per poter pescare le api di questa regione che è stato prorogato per un altro anno a seguito di una serie di dimostranze molto forti che sono partite addirittura da un esposto fatto da un gruppo di appassionati un mio editoriale insomma si è mosso eppure non dovevamo essere noi interessarci di questo devono essere altri che ci rappresentano non privati cittadini analogamente tutto il discorso legato alla grande grandissima problematica autoctonia all'octonia che riguarda il 90 per cento dei pesci delle nostre acqua quel decreto direttoriale folle che di fatto eliminava la possibilità di mettere trote fario e trote ride e salmerini nelle nostre acque e a cascata tutti gli altri tipi di pesce creando un disagio per tantissime strutture che invece vivevano grazie ai proventi della pesca sportiva e lì sono intervenuto io personalmente grazie al senatore ex senatore simone bossi che lesse in senato una mia relazione e si ottenne una prova non non si ottenne la prova perché io scrisse una relazione sia ben chiara ma comunque ognuno ha portato un secchio d'acqua o una bicchierata d'acqua per arrivare a un risultato ma tu queste cose spettano a chi ci dovrebbe rappresentare questo problema della rappresentatività è un problema che dovrà essere affrontato presto o tardi fate bene attenzione questo non significa che io voglia sgomitare come qualcuno ha detto nei miei confronti forse perché non si rende conto che il mio sono mosso solissimamente da grande entusiasmo e dalla voglia di vedere questa pesca sportiva trasformarsi in un qualche cosa di moderna perché ci sono delle grandissime frange della pesca sportiva italiana che sono ormai moderne e modernissime ma ce ne sono ancora tante altre che sono rimaste all'età della pietra tra cui la rappresentatività parleremo magari anche di questo nelle os di verona ne continueremo a parlare in tante occasioni intanto io vi aspetto lì in fiera ci sarò sicuramente tutta la giornata di sabato sarà un grande piacere parlare con voi niente grazie di essere state qui iscrivetevi al canale perché l'ottanta per cento di quelli che guardano questi filmati non sono iscritti al canale ed è un peccato perché magari se io facessi dei numeri più importanti potrei anche trovare il modo di migliorarne la qualità vi ringrazio ci vediamo la prossima volta